L'unica cosa che vedrete adesso sarà all'uscita di questo posto! Oh, accidenti! Avete superato largamente i confini della terra del Braco! Guarda, Becco di Banana ha paura! Ehi, sono il signor Becco di Banana, spelacchiotto! E al momento direi che siamo tutti in grave pericolo! Pericolo? Ah! Il pericolo è il mio mestiere! Io rido in faccia al pericolo! Ah, 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 ah! Bene, 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 Banzai! Che cosa abbiamo qui? Non saprei, Shenzio! Tu che ne dici, Ezio? Sì, proprio quello che pensavo io! Un trio di trasgressori! Vi posso assicurare che siamo qui per sbaglio! Un semplice errore di rotta! Oh, dove vai? Aspetta, io ti conosco, tu sei il galoppino di Mufasa! Io, signora, sono il maggiordomo del re! E perciò tu saresti... Il futuro re! Lo sai che cosa facciamo ai re che oltrepassano il loro regno? Puh, a me non potete fare proprio niente! Tecnicamente possono, siamo nel loro territorio! Ma, Zazu, tu hai detto che le Iene sono delle rognose stifose stupide per schiacciare! Tizzo, non direi Pustido! Chi hai chiamato Pustido? Oh, mio Dio, il sole sta calando, è ora che andare! Che fretta c'è e saremmo molto felici di avervi per cena! Già, e poi vi assicuriamo che sarà un pranzo da re! Aspetta, senti questa! Potremmo mangiarci un felino di pasta, che ne dici, eh? Cosa? Cosa c'è? Abbiamo forse ordinato una cena a portar via! No, perché? Perché la cena sta andando via! Sì, ne abbiamo seminati! Penso di sì! Dov'è, Zazu?